Il nostro progetto è il numero 18, riguarda San Michele, dove noi vogliamo fare una serie di iniziative che riguardano la promozione dell'informazione. A San Michele ci sono circa 18.000 persone che ogni anno vengono. Abbiamo provveduto a fare una serie di pubblicazioni in varie lingue. Quello che noi chiediamo con questo progetto è quello di poterlo fare in altre tre lingue, oltre alle sei che abbiamo adesso, che sono l'arabo, il giapponese e il russo. Mentre l'altro aspetto che era importante era che nella Basilica di San Michele sono stati incoronati già due imperatori, Barbarossa nel 1055 e nel 1014 Enrico II, due imperatori del Romano Impero. Ce n'è un altro che si chiama Arduino e che è stato imporonato a Red Italia collegato a Ivrea. Ci sarà una collaborazione per un convegno insieme a un'associazione di Ivrea. Grazie. Grazie. Grazie.